E' la parte dopo Mi sento che devo andare Per te sono papo C'è l'aria di pop corn Ma tu ci sei? Ok, vabbè C'è l'aria di pulire C'è l'aria No 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 Oddio No 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 All in 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 All ci Gioco Molti All in All in All in All in non è possibile ragazzi o lì no no ma adesso ha risolto mancate queste tre stasi è un magic scuola di sicuro aspetta un check aspetta un check ok non ne abbiamo dato vai avete mai notato che nei film avete mai notato se anche voi avete qualcosa in mente che succede se anche voi voi avete in mente se anche ma pure proprio se anche l'importante è che se anche l'importante è se anche non è vincere ma se anche ponga 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 e si sta così no? del domani io ho messo sul diario una cosa che non ho capito tipo il secondo punto ah 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 ho capito che la mamma riportava allora tu me lo scrivo qua tu riporta le espressioni a proposito del nobile di Chris Christophe oggi te li sei visti Simpson? oggi si amore dai omer che beve la birra ah quella di 17 anni avevo quando la mia birra la mia birra bevevo e qui la sera quella è troppo forte se anche a voi è capitato di vedere qualche cosa di molto bizzarre nei film commentate e fatelo fate e allora chip chip chop io li lascio chiunque Grazie.